E' big match fra Giulianova e Davezzano. Prima dello svolgimento della gara il Giulianova si aggiudica la sua vittoria virtuale con il Fadini pieno e il popolo giallorosso ritornato con il cuore. In gola c'è rasi e torti possono schierare il meglio. Gli atleti daranno tutto ed oltre. Apertura con il brivido un campanile bianco verde si dirige verso la porta di Bocca Nera ma l'intervento delle noci è assolutamente salvifico. Passano 15 minuti ruba palla a pendenza che mette in movimento Dos Santos che costringe l'estremo giallorosso al blocco a terra. Replica giuliese al 29esimo da destra pallone spiovente sul sinistro di Barbarossa che prova la volè. Venditti in angolo. Gara assolutamente viva ed intensa il momento delle qualità balistiche di Zanon che costringe Bocca Nera in angolo. Giulianova prova a premere sull'acceleratore al 37esimo. Ancora un pallone da destra a sinistra. Stavolta cambiano gli attori. Le noci persi se è destro che si alza sul legno traverso. Il Giulianova chiude in avanti la frazione di tempo sviluppi dall'angolo con il rasoio di Giglio che cerca lo specchio ma trova il fondo. La ripresa si apre così come si era terminati nel primo. Intensità ed aggressività ed equilibrio che viene rotto al diciottesimo. L'azione che porta al gol si se. Francesco Di Paolo lavora un pallone con una caparbietà a dir poco straordinaria. La deviazione in rete dissi se fa esplodere il boato del Fadini 1 a 0. Ed è da lì in poi che il Giulianova vincerà e legittimerà la partita. Per paradosso scompare quasi l'Avezzano nonostante l'innesto di altri attaccanti. La difesa 3 mentre il Giulianova recrimina su un atterramento di Di Paolo al 23esimo. parsi ai più punibile ma lasciato correre dalla direttrice di gara. I tentativi di Barlafante al quarantesimo e l'occasione di sì se tre minuti dopo legittimano il vantaggio giallorosso. Peccato per la rissa in pieno recupero al quinto dei sette dati e poco giocati di cui ne fa le spese stelle. Poi è solo festa. Il Fadini è una polveriera. L'Avezzano conosce la prima sconfitta stagionale e il Giulianova si riporta a meno due. Mister, complimenti perché la partita l'avete vinta secondo me dopo il gol. Avete iniziato a attaccare. Lì avete annientato all'Avezzano. È così? Sì, anche perché sapevamo che l'Avezzano se prende gol si riversa tutti quanti nella metà gamba avversario. L'ha fatto diverse volte. L'ha fatto al badriatica. L'ha fatto diverse volte. Andando in svantaggio loro con questa fisicità sta tenuta davanti e riesce a spostare il badri centro della squadra. Noi quello non lo dovevamo fare. L'avevamo già detto prima della partita. Non ci dovevamo abbassare se andavamo in vantaggio perché ero sicuro che ci lasciavano degli spazi per le ripartenze. Quindi questa cosa è stata detta prima della partita che non ci dovevamo abbassare assolutamente anche se andavamo in vantaggio. Cosa hai pensato al termine della partita con uno stadio che oggi sembrava uno stadio della Serie C? Poi non credimi, però ho pensato il primo giorno di raduno. Il primo giorno di preparazione con tante incertezze, con tanti dubbi, con tante novità. Poi farlo qua a Giulianova da Giuliese e vedere questo pubblico ti rende un orgoglio dentro. Poi tutto lo staff è Giuliese e io devo fare i complimenti veramente a tutti quelli che mi stanno vicini perché ogni giorno non mi fanno manca niente. Questo è il risultato di un'organizzazione di gente che ha voglia di fare sport e calcio in questo paese. Mister, ho detto al suo collega che Giulianova ha vinto la partita dopo il gol. È vero perché fino al gol è stata abbastanza equilibrata. La partita è ovvio che ha fatto gol. Loro sono cresciuti nel senso a livello di entusiasmo. Ovviamente ci hanno creduto più di noi. Questo è perché fino al gol penso che la partita è stata equilibrata e quindi il pareggio era giusto. Però poi dopo il gol loro alla fine hanno anche meritato. Anche se poi andiamo a vedere, tranne il tiro di Sissé che è uscito fuori, non ci sono state grandi occasioni. Però ripeto, come ho detto al collega, era una partita che chi segnava vinceva. Ha fatto gol. Gara intensa, pubblico emozionante. Pubblico eccezionale, pubblico eccezionale, una cornesia di pubblico. Il riconoscimento anche a questo campionato è quello che state facendo, no? Sì, ma anche per il Giulianova. Bisogna fare i complimenti perché ovviamente hanno ricreato un entusiasmo in una piazza importante per cui va dato merito a loro. Noi stiamo facendo qualcosa di eccellente. E quello che sente dagli spalti che questa squadra costa chissà è che cosa non è assolutamente vero. Sia ben chiaro. È ovvio che se ne dicono tante, ma questo è grande. Vi posso assicurare che non è così. Però ha un tasso tecnico elevato. No, no, no. La squadra è stata costruita per fare un camminato importante. Lo sta facendo. Lo sta facendo. Lo sta facendo. Credo che abbiamo fatto un percorso eccellente. Abbiamo perso questa partita importante. Però noi da domani testa domenica prossima perché noi vogliamo arrivare. È ovvio. Quindi dobbiamo fare partita per partita e domenica, pensiamo che da domani, già la partita di domenica è in casa di Salbordini.